Ciao a tutti e benvenuti nel nostro video dedicato alle poltrone alza persona. Sappiamo quanto sia importante avere una poltrona confortevole e adatta alle tue esigenze, soprattutto se sei una persona anziana o con problemi di mobilità. Prima di iniziare con il video, non dimenticare di trovare tutti i link ad Amazon sotto al video nella descrizione o nel primo commento. Cominciamo con la poltrona alza persona di Vida XL, il nostro prodotto meno costoso. Questa poltrona offre un comodo supporto lombare e può essere regolata per alzare e abbassare il sedile. È anche dotata di funzione massaggiante, il che la rende ideale per chi cerca un po' di relax. La nostra seconda scelta è la poltrona relax elettrica di Oncom. Questa poltrona ha una funzione di reclino fino a 160 gradi e un poggiapiedi retrattile. La poltrona è facilmente regolabile tramite un telecomando elettrico. Il terzo prodotto è la poltrona elettrica con ingressi USB DM Combo. Questa poltrona offre non solo un comodo supporto alza persone, ma anche due porte USB per ricaricare i tuoi dispositivi. La poltrona è anche regolabile elettricamente per il massimo comfort. Il nostro quarto prodotto è la poltrona alza persona reclinabile elettrica di Poltrone Italia. Questa poltrona offre un design elegante e un'ampia gamma di regolazioni, tra cui il reclino e l'alza persone. La poltrona è anche disponibile in diversi colori e tessuti. Infine, il nostro prodotto più costoso è la poltrona elettrica alza persone in pelle di S** Max. Questa poltrona è realizzata in pelle di alta qualità e offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui il reclino e l'alza persone. La poltrona è anche dotata di un telecomando facile da usare per regolare la posizione. In sintesi, queste poltrone alza persona offrono un'ampia gamma di funzionalità e regolazioni per il massimo comfort. Assicurati di controllare i link ad Amazon nella descrizione o nel primo commento per acquistare questi prodotti.